ciao a tutti ragazzi ben ritrovati con fight the shield of wrestling vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non lo avete fatto dopodiché attivate la campanellina delle notifiche e ovviamente lasciate un mega pollice in su se vi è piaciuto il video noi vi ringraziamo sempre per il vostro supporto prezioso per noi per poter continuare come sempre a tenervi aggiornati sul mondo degli sport da combattimento soprattutto le arti marziali miste bene e ora via con le news parliamo di bellator e precisamente dell'evento bellator 268 svolto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre presso il food prime center di phoenix in arizona e che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi nomi della categoria light heavyweight i due incontri di cartello sono state le semifinali del bellator light heavyweight world grand prix che vedevano di fronte nel co main event della serata ryan bather contro cory anderson e per il main event il match per il titolo di categoria tra il campione vadim nemkov e julius anglicas la prima semifinale termina dopo 50 secondi dall'inizio del primo round ed è cory anderson a mettere knock out ryan bather mentre nel main event si aggiudica la vittoria vadim nemkov che sconfice anglicas per sottomissione al minuto 4 e 25 del quarto round di seguito ora i risultati degli altri due match della main card il primo che vedeva di fronte i due pesi piuma henry corrales e vladislav barubchenko con la vittoria del fighter statunitense per decisione unanime e il secondo per la categoria pesi leggeri tra l'ex campione ufc e wc benson anderson e l'ex campione bellator brand primus con la vittoria per decisione unanime di quest'ultimo andiamo ora a vedere i risultati della ufc fight night che si è tenuta come bellator tra la notte di sabato 16 e domenica 17 ottobre alla ufc apex di las vegas con i cinque match della main card a partire dalla categoria pesi piuma nate landwehr batte ludovic klein per sottomissione per la categoria pesi mosca femminili ma non fiorò batte mayra bueno silva per decisioni unanime nel terzo match per la categoria pesi leggeri jim miller sconfigge eric gonzalez per tko nel co main event della serata il veterano dei massimi andrei arlovski vince per decisioni unanime contro carlos felipe e nel main event per i pesi piuma femminili norma dumont batte per decisioni unanime aspen ladd chiudiamo ora con flash news tutte italiane a partire dalla sconfitta di giorgio petrosian a singapore per il titolo one kickboxing dei pesi piuma contro il tailandese superbon banchamek che strappa il titolo all'italiano mandandolo kapawa al secondo round con un high kick giorgio trasportato in ospedale per aver perso i sensi ora sta bene e noi gli mandiamo tutto il nostro supporto e siamo sicuri che si riprenderà al meglio tornerà più forte di prima complimenti e onore ovviamente al fighter tailandese per la conquista del titolo ma ci tengo a ricordare a molti che petrosian non perdeva da ben otto anni e che ha collezionato la bellezza di 102 vittorie in carriera e comunque si arresta e resterà sempre una leggenda da segnalare ora la conquista del titolo italiano di box dei pesi super gallo in uno dei match di cartello della reggio emilia boxing night di venerdì 15 ottobre da parte di lucca rigoldi che si impone per decisioni unanime contro mattia de bianchi mentre il main event della serata ha visto purtroppo la sconfitta di nicola in ciri pugile pisano che non riesce a difendere il titolo contro lo spagnolo cuan felix gomez che vince per verdetto unanime alla fine dei 12 round e per chiudere restando sempre in tema italia nel main event della roma boxing night disputato sabato 16 ottobre marco papasidero batte mirco di carl antonio nel loro rematch dopo il pareggio del 23 luglio ed è il nuovo campione italiano dei pesi super welter prima di salutarci ci tengo a sottolineare a scusarci da parte di tutto lo staff per l'errore presente nello scorso video per quanto riguarda il match tra tyson fury e deontai wilder correggendo il fatto che wilder è andato di nuovo al tappeto al decimo round e non al settimo errori che possono capitare ci scusiamo e vi invitiamo naturalmente a segnalarci qualsiasi errore o svista si possa eventualmente verificare e ovviamente ci teniamo che sia fatto in maniera pacata e educata grazie per la vostra cortesa attenzione da alessandro e fight the shield of wrestling un saluto e alla prossima